Bella a tutti ragazzi, qua Yanoficial94 vi parla Siamo qui in un nuovo gameplay di South Park The Stick of Truth Questa volta in questo episodio Aspettate Chi vuole un lavoretto a naso? Vattene, comunque Ragazzi oggi non c'è webcam perchè ho avuto dei problemi E niente Non posso registrare con la webcam Però almeno vi porto i gameplay con appunto la mia voce E' in live e non è registrata dopo, robe varie Oh, una band Ok Oh mio dio Ok, vabbè Ok, in pratica vogliono che ci vestiamo come loro Ma se tipo si, se glielo spengo No, non posso Qua si può andare Che avevo la cucina Vabbè andiamo No Eh, si Allora Eh, ragazzi Se non avete Oddio Ok Se non avete visto Il video di Fico14 Andatelo subito a vedere Eh Sti cazzi Sto andando in giro Non sa Oddio Aspettate Sto andando in giro Non sapendo dove devo andare Quindi Eh, facciamo così E abilino Ah, si abilità Ho visto che Avevo due aggiornamenti Ho migliorato quasi al massimo questo Perché è forte A me piace Comunque questo Eh Non capisco se Questi pallini Siano Le cose secondarie o no Però Questa volta direi Per andare per una secondaria Team Express Vabbè questo qua no Eh Atacosessore Eh Sensore No Vabbè Noiosa Facciamo questa Torna Cartman Digli che hai reclutato Token Tweak Craig Ok Qua devo andare Ok E io sono lì Facciamo Oddio 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 Aspettate un attimo Facciamo via Ma cosa vuoi Eh Facciamo un viaggio Rapido Così E Andiamo qua Mamma mia Proprio esatto esatto Dove devo andare Ti mi può trasportarti A quelli stessi Blah 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 Wey Non mi ricordo Non mi ricordo Se l'ho già fatta Questa cosa è Nello scorso episodio Però vabbè Ve lo tengo Allo stesso Oddio 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 Sono Sir Coglionazzo Che bello Che bello Coglionazzo Tieni Che coio E' mai su le palle di qualcuno La stessa cosa dell'altra volta Va bene All'asino sornione Ok Allenati con Cartman l'ho fatta Oh bella La chiamata degli araldi è stata fatta Voglio vedere se lui ha delle armi forti Sono di livello 4 E ha la clava del mazzo al lato Oddio quanto fa male Un attacco perfetto riduci i scudi di 1 Indebolisci Se l'attacco perfetto ha basso difese per saio Toglio i 53 75 Ecco Io ho questo E beh Curati spaccando la faccia I tuoi nemici Io direi di comprare La clava del mazzolatore Che sembra forte Aspettate io ce l'ho Ah no questo che è manganello Ok allora lo prendiamo Si dai Anteprima Ah ma cos'è magia? No non credo Vabbè Comunque sappiamo che fa malissimo Quindi Prendiamola E beh Non l'ho messa Armi Ok perfetto Perché è diventato tipo tutto nero La pocce da fortività del ladro Ok Va bene E andiamo A una nuova quest il bardo Siamo a 7 minuti di registrazione Ma facciamo dai 15 minuti Oh mio dio Quello Così dicono su Twitter Ah ecco che il corvo Messaggero è Twitter Ma No What? Dio Ho detto una cosa che non doveva dire Maledizionate a Craig Oddio Va bene Andiamo Non lo so se possiamo adesso usare la principessa Kenny Come amico Perché Sta lì con Craig Comunque vai all'asino a sornione Craig ti ha inviato un nuovo messaggio Ehm Come mi sa Vabbè Otro 9 amici Craig ora è single I ladri lavoravano da soli Lui era un peso per me Ok Io non credo ragazzi Comunque Aspettate No Sicuramente c'è qualcosa da Da sparare Stiamo Aspetta Ok No Oh Ma dove l'hai sentito Scusami Oddio È lui Ma più Più che Oh Jesus Oddio Ma è lui Ma è un ritardato Perché non può dire Oh Donna Dovrebbe forza saltare comunque Oddio Allora Bella Oddio Cazzo fa Un buonessi di difesa Ma che Allora comunque Dai facciamo il culo Raga Madonna Che arma forte Raga Mano santa Non mi serve Andiamo a una mena Oh Dieci di vita Cosa vuoi fare Botta e risposta Ostro Oh Bastardo Oddio Ok Allora Usiamo un'abilità Va Togliamoci un arciere Figlio di Ecco Oddio Che coltellazzo E qua usiamo un'abilità Anzi aspettate Prima usavo una mano santa Esatto No Ho sbagliato E usiamo un'abilità Questa Ok Aia Oddio È morto Quello è morto Di sanguinato Ok Questo arciere Lo facciamo fuori Boom Baby Ma chi sono rotta Vieni qua Wow Che calcio nel culo Vieni qua Stronzo Oddio Prendiamo tutto Tutto Comunque Oddio 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 Ho capito Forse No Non ho capito Non merito Cazzo Ora che è più Di una scariccia Di posizione Toccai Finchè Non hai selezionato La petomanzia Ok Ok Vieni Madonna Oddio Ho visto qualcosa No Oddio Wow Tieni questo Oh mio dio Ho killa tutti Aspetta che qua ho visto Ecco Prendiamo tutto Perfetto L'abbiamo killato tutti solo Interagendo con Oddio Parliamo No 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 Non ti lascio qua No Come si cambia Volla del drago Petomanzia Volla del drago Petomanzia Comando amico E il comando amico Non mi ricordo più Come si usava Ah F Ma tipo Se tipo lo aiuti Porco zio Oh Guardiamo Sono venuti 15 minuti Di Oddio 15 minuti Di gameplay Oddio Mamma mia Quanti Bella ragazzi Mettete mi piace Commentate Condividete Fate di tutto E bella Ci vediamo alla prossima Peace Attra Attra